iscrivetevi sulla cucina di raffi a tutti ben ritornati nel mio canale oggi vi voglio presentare una buona e fresca ricetta lo spumone a caffè lo spumone a caffè chi c'è il bimbi già ce l'ha la ricetta però io la voglio presentare alle persone che non hanno il bimbi che possono usare benissimamente un robottino per fritare il ghiaccio comunque andiamo con la ricetta allora per fare lo spumone al caffè ci voglio 400 grammi di ghiaccio a pezzi 100 grammi di zucchero semolato 90 grammi di latte parzialmente scremato e 10 grammi di caffè solubile iniziamo con prendere lo zucchero e tritarlo allora dopo aver spolverizzato lo zucchero che l'abbiamo fatto diventare a bilo inseriamo 10 grammi di caffè solubile e andiamo avanti allora una volta spolverizzato sia lo zucchero che il caffè solubile inseriamo il ghiaccio i 400 grammi di ghiaccio chiudiamo il coperchio e poi mettiamo anche 90 grammi di latte scremato e incominciamo allora abbiamo finito di montare il tutto lo spumone è venuto così mi raccomando fatelo che buonissimo e anche senza panna e non fa male se volete potete inserire anche qualche goccia di cioccolato che dire è molto ottimo mi raccomando fatelo ripeto lo potete fare con qualsiasi robottino vi ringrazio sempre per il fatto che mi seguite mi raccomando mettete un sacco di like pollice in su e ci sentiamo alla prossima iscrivetevi sul mio canale